Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni. Al centro, nubi irregolari con locali acquazzoni. Al sud, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In serata, al nord, del tempo con cieli sereni. Al centro, schiarite alternate a nubi sparse. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, del tempo ma con qualche foschia. Al centro, soleggiato ma con nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni. Al centro, soleggiato ma con nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse.